Natura al centro, questo è il progetto che prevede dei summer camp in provincia di Teramo. Vogliamo parlare di questo progetto? Dove verranno svolti questi camp e come è nata questa iniziativa? Il summer camp nasce da un sogno dell'associazione Positivamente, che è un'associazione di promozione sociale di Atri e nasce dal sogno di aprire dei centri proprio in natura sulla filosofia dell'asilo nel bosco. Avremo due centri estivi, uno verrà fatto ad Atri in collaborazione con l'oasi regionale naturale dei Calanchi di Atri e uno a Mosciano presso la struttura del Wild West a Lago Paradise, una struttura di un maneggio. Quindi i bambini saranno immersi nella natura proprio perché noi pensiamo che la natura sia il motore primo per l'apprendimento per i bambini. I bambini sono felici e possono condividere questa loro felicità e quando si condivide, si costruisce una collettività dove si collabora, dove si ha fiducia proprio anche per un futuro di collaborazione e di fiducia. Ci saranno tante attività da svolgere all'interno di questi camp? Sì, noi abbiamo tantissimi laboratori, ne sono tanti e diversificati fra di loro. Avremo i laboratori di circo, i laboratori proprio di avvicinamento all'animale, sia al cavallo sia al cane come relazione, laboratori di manipolazione, yoga bambini. Ma anche i laboratori rappresentano un'opportunità per i bambini per sperimentare nuove forme, tipo il laboratorio di circo sperimenteranno la loro corporeità in nuove forme. Ci sarà il laboratorio di riconoscimento insetti ed erbe, quindi porteranno l'attenzione sulla natura, sul particolare del prato. Sono tutte opportunità di sperimentazione. Grazie a tutti.